ciao a tutti amici aspetta che spengo la radio prima domenica di ottobre il tempo ancora buono non c'è caldissimo ma neanche freddo insomma adesso sta bene finalmente dopo più di un mese mi è tornata la bimba e mi è tornata con un upgrade ovvero non so se le vedete ho montato due cartucce nuove oggi la provo per la prima volta e vediamo come lavorano ci sono già tutti ma che devo scurare le targhe dopo va meglio ma cadì ma l'hai ricolorato no l'ho tolto è meglio così secondo me che sbrofata di vd che c'è ma cos'hai sembra un pupazzo di nero ok allora siamo partiti da distributore adesso siamo ad affi oggi dovremmo andare a monte veleno punta veleno adesso non mi ricordo non so dove sia però dovrebbe essere una strada ha detto che è una strada panoramica che alla fine finisce a malcicene quindi sul lago di garda ok allora come l'ho detto abbiamo cambiato giro non si va più punta veleno ma andiamo da un'altra parte ancora io non capisco un cazzo niente comunque dovremmo sempre scendere verso il lago eccolo qua questo è il lago di garda guardate che figata spero che si riesca a vedere sarà un video assai panoramico questo panoramico lento e stretto non senti anche tu un odore da bruccino tipo adesso si allora la mia ma adesso dove andiamo andiamo giù ma scesi dopo andiamo sui tramosine andiamo a tramosine ok ok dunque adesso siamo scesi e stiamo facendo tutto il lungo lago siamo all'altezza di malcicene eccolo la e dove andremo ovvero sulla terrazza del brivido grazie a tutti dai che mangia la tortina alla rotonda vai dritto è un vizio aiuto questo è il giro pari pari a quello dell'altra volta grazie a tutti 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 andiamo di andare a prenderlo come che morbida che è sta moto come come sta anche tu non senti l'on off però però questa frena molto bene, molto bene comunque senti che è una moto che lì è attaccata a te non ci credo ha speso 800 euro di sospensioni spero che non sia eh sì eh con la pulizia locale malandrino molto bene, molto bene adesso stiamo tornando verso Riva del Garda Riva del Garda poi andiamo in Val d'Adige come sempre la nostra amatissima Val d'Adige torniamo a casa bom signori il giro è finito andate in pace se questo video vi è piaciuto dubito perché è uscito un po' una cacatina di video mettete un like se non vi è piaciuto non fate niente per piacere ci vediamo in un prossimo giro ciao ciao ciao